mi è scomparsa la freccia, no no, ok, ritornato ah lui il tuo personaggio è quello che fa eh no, hai visto? l'ho prestigiato al 2 ora! fai schifo eh no, dai devo arrivare al 3 io so senza, cioè con i perchi tutti all'1 tranne Borroval 2 ne so pure con un morto stecchito, vada ehm con Giacomo Leopardi andiamo dai, devo fare missione con sto porco, eh sto Parker scusa no, scusa, è Jack Parker si chiama Jack Parker, no? posso dicendo una nanna porcata si, si, è Giacomo Park Giacomo... CRING TV ed è un francese di Merda oh, aspetta aspetta, usciamo, usciamo, usciamo mi hanno invitato a giocare la persona che ho invitato io e vabbè ti invito vediamo se quanti sono ciao 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 ancora ciao ciao siamo No non ho capito, scusa, hai detto qualcosa no acqua anche due cazzo no dio boh non puoi vabbè io se faccio cosi no? se fai? faccio cosi entro stai voglio vedere vai prova tutto no non mi fa entrare impossibile unirsi alla partita privata richiesta rifiutata dall'oste ma perchè non non posso ok devi chiedere l'amicizia questo aspetta che ti mandi non puoi farlo lui ma è due volte questo qua è pure cano aspetta che ti mando la cosa si incolla vai maia buh che se lo infila su per il culo eh si ma comunque se lo infila su per il culo comunque vabbè sei entrato? sei riuscito? siete riusciti? no mi ha accettato non mi ha ancora inviato la... la... eh? eh ma scusa tu devi inviare no e non mi ha invitato per il gruppo ah ok ecco brava ce l'ha fatta ma quindi era anche 2 eh? che due coglioni 1 questo è 10 io 9 dai che tu ci aiuti a fare la media bella io son 13 appunto sap ma cos'è? ma da quando in qua c'hai sta gente te? da due giorni tre oh ma nè che è italiano boh oh vedi questo muo' esce eh no non penso non sembra italiano o forse si per essere che vedo se... no con lui non sto controllando speriamo sia un killer che ferisce due volte per atterrare eh è un morto stecchito che vuoi è l'R eh madonna l'R guarda ma lo trovi dietro mi è venuta un'infermiera che nella... nella... nella mappa quella lì l'ospedale psichiatra quello del dottore quindi tutti i muri eh e lui arrivava proprio in faccia di Rita con il... con il... con il... con il blick neanche... e dici ma t'ha trovata a caso no no proprio diretta senza barbecue e potessi che ti... ti individuava nel senso ti... percepiva se tu continui sempre a correre è ovvio che te l'avevi in faccia no 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 e poi magari ritornare indietro no 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 lei ti trovava a caso cioè no lei ti trovava... appendeva uno e veniva dritto da te senza barbecue precisa cioè proprio però io una volta ho fatto così senza barbecue va proprio a culo ma ho... ho tirato un blick a caso e mi so tirato... mi so trovato davanti un sopravvissuto sì ma va a far culo allora che cazzo vuol dire quello là è in ogni sopravvissuto tutte e tre le volte eh... non è che per caso la nurse che abbiamo incontrato l'altra volta comunque io l'ho reportata mo... si deve vedere un mobili livello 150 comunque voglio che lo banano qua sì ma dai ma diobano oh... sono nella casetta e vedo se c'è l'infinite è una casetta? sì grande 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 buonissimo sto infinite cioè ci sono anch'io là praticamente oh è lo spettro madonna che duco io mi da me lo vuoi stare davanti con me scomparso che c'è quello da dodo di per stare fermo e diventa invisibile eccolo oh è la candela eh madonna cos'è è una torcia la torcia si è bellissima con la schiena voglia anch'io è una torcia dove va? non lo so mi cercano è andato è interessante se stai è andato allora facciamo già ora quanto incini vicini si sta mappa è pallet di meno giustamente giusto Perché sto gioco è fatto Ah ho visto lo sprint Ora Dalla prossima patch sarà che Quando lo usi e corri Non si auto rigenera Devi camminare Così che va via La fatica Poi invece Questo è perché sono i killer che piangono Aspetta Il decisive Questa è la cosa più bella Il decisive Non ti farà più Droppare Quindi non ti farà più Farti lasciare dal killer Ma lo stordirà per 3 Cioè lo bloccherà per 3 secondi Cioè tu starei sempre Sulla spalla Però lui è fermo per 3 secondi Wow Così che Tu ti puoi devincolare Però sempre ti co Devi beccarlo no? Eh ma scusami Ma che stronzata è Ma che stronzata è Non assente È una gran vogliata Per me è una gran vogliata Io non la capisco Questo qua è il rack 2 Vorrei dire Che ti ho fatto prendere dallo spettro Vabbè Vabbè ma considero che lo spettro è collecolo E ha tutto quello skin E quindi ha vedi 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 A quello sprint Che cosa? La velocità sprint Nel senso Vabbè salvolo tu Anzi curiamolo E facciamo il jam E' ritornato No? Vabbè 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 Ah è basement in un'altra parte Ma io sto facendo Jam con Detective tap Detective tappo Ehi E vabbè Ah se t'anno lì mi va bene Se vuoi stare addosso a quello lì Mi sta tutto bene Vedi che va sempre in stealth E esce Con lo sprint Ma è bravo Non è male Attento che è qua Visto Visto Ah vuole voi Oh cazzo Vuole me Vuole me Sì sto facendo il generatore Porco Ma questi non usano discord? Adesso che poi arriva Ma chi? Maya Ok Maya 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 Ma no dai Mai Ma ce l'ho con noi No ma non ma non ma non ma yay Tu sorella quella puttana yay Niente non hai l'anima da cantautore? No è che sono ero impegnato Ehi Sei molto alto qua non si fanno ste cose Dai cazzo No dai Bene cerco di andare da là Questo con la torcia si batte subito Catto ho lasciato il decisive sono una testa di favore L'hai missato? Eh si Ma più che altro perché sai quando fanno Vanno a casa col mouse e ti sfanculizzano il monitor No Sai quando tipo inizia a fare A roteare più pavaria giusto per fartelo sbagliare Ha fatto quello Ma dai ma quanto è lento scendere la finestra Madonna Cura cura Ah poi hanno detto che faranno Quello la della cura Self care che Ma si vabbè Questo ha partito da tipo Ma Che senso guarda veramente Cioè li hanno proprio baffati di brutti Killer Cioè Cioè Molvretti è diventato facilissimo a giocare Vabbè era più facile il tempo Era uno dei più facili da usare Cioè anzi è il più facile Insomma Adesso è facile da cancellare Ma ora che non era affatto tutto quanto Cioè Noi tu i pallet sono tutti a terra Non ce n'è neanche uno a pensare in piedi Adesso sai come si diverte questa Eh uno si E' qua da me Tu non so dove sei Stai ritornando Stai ritornando Si Mi è da te Cazzo mi è bloccato la strada Ma non vuole mai però sai Meglio guarda Ma se trovo la torcia in questa cazzo Ve la faccio vedere io Fanno un po' cagare eh Anche se sono di rango alto No ma è inutile Può essere pure la rancuna Che hai 3 mili Oh eccola qua La torcia vai No però adesso c'è da dire Che adesso devi fare un bel po' di roba Per fare i dpi Ad esempio io Sono rango 13 ma Beh che non mi sto neanche impegnando In realtà per essere Però Ehm Vedo molto più difficile salire di rango Non hai 3 linee Oh no l'ho già fatta che figo Madonna lo stavo più di chiaro fa più di me in benvenza in trenzo è circa 2 e 2 9 wii 8 da αν dice che torni un'altra parte di un'altra parte c'è il caso gioco per l'anno scorso che ha morto non è dettagli non è morto non è morto l'ho visto e volevi guarda vado a salvarlo io guardalo guardalo ma con la torcia cosa fai eh? vai 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 porco, vai vai che la sto tenendo dai che stupido, che stupido, che stupido, ho vinto, no, sta ritornando la, occhio, ritornala è perso lì? si si, quindi siete salvi? ho usato morto stecchito e comunque non ha funzionato, meno male che ero lì, vabbè, è gioco di merda a certe volte oh, livello 27 però qua non ne ha ucciso nessuno, eh? c'era vicino, c'era vicino comunque che dice che sono rango 12? non è vero, sono rango 30 no, eh, diciamo leggermente bugato, gg che vordì, ah una sorta di gg si, storto però eh, te l'ho detto, appena prendevo la torcia questo qua ha finito di fare lo sborone oh mio dio, guarda la bacheca degli screenshot di questo qua come? guarda la bacheca degli screenshot write only, minchia, write only si chiama ma, 1500 ore guarda la screenshot minchia cioè, ti rendi conto se non è che si fa su tutte le cose che trova e le registra non mi dire che è 1500 ore solo di write madonna, fa paura si e fa cagare con me madonna guarda la quanta roba che ha comunque la candela a me piace un bot l'avevo già comprata sul, sulla beta l'avevo già comprata sul sul ma io c'ho qualcosa cambiare aspetto ma no, è farti inseguire mi pare che era, non so se ha fatto la missione eh ma sicuro non l'hai essere riuscito a fare in una partita sola no, no e non posso perché quello andavo sempre in style ma non cazzo che facevo e ora che ho aperto il rango 1 la voglia che troviamo partita hm, rango 1 sono tranquillizzata adesso da 1 a 13 deve trovare neanche poi in realtà vabbè perché non so se riesce a trovarli c'è uno che ha fatto un pre-made con tutte e quattro il debito a torso nudo eh 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 ah beh vabbè vabbè eh olè, sono claudetto claudetto dono dai un minuto l'ho fatto dai non so se ne fosse puoi però io dico un bel myers con la lapide e con malvagità in acqua ma se è una norsa basta che non abbia il wallhack come nell'ultima partita che ho fatto e mi va bene anche ma secondo te no? se io in un gioco ho dieci ore cosa? se io in un gioco ho dieci ore hai dieci ore? ho dieci ore e provo a chiedere il rinvento me lo danno? non lo so mi pare che era cinque ore o sette ore massimo il massimo era due ore e te lo davano sicuro però non so poi c'è scritto che puoi comunque chiederlo e vedono loro se vogliono darti un vostro se fai ah là ci sono tutti ah là ho visto il killer ah il dottore ah è il dottore ma è il dottore fallo è quello lungo ma dove è andato quello e me lo seguo torno a prestigioso e non mi spingere ma è una cosa cosa salti cosa salti sei una testa di farla no c'è rovina madonna che palla ma fa culo sti skill c'è che vengono nel senso no paletto ma io non lo so guarda vai te vai te no e non c'è non c'è non c'è no niente cosa qua niente lascia perdere non so se le size ma cosa ho visto mi sono visto i miei occhi da elfo vai trovate il ruin vai toglie se tu immagini il dottore ora con tutto sto nerf è impossibile è già la prima forte con tutti i palli attivi eccetera l'ho lasciato a 99 se l'ha accorto dopo se skill check proprio in fondo allo schermo mi dà un fastidio qua fammi culo il dottore è OP cioè veramente non lo so guarda questo è cieco comunque dai siamo ancora a 5 generatore lo mi ha perso vabbè io ho finito uno e io qua lo sto tenendo qua lo sbaglio e vabbè inevitabile vedete se è riuscito a salvarla ah c'è david tappo ah non è david poi io mi scordo sempre detective però lo chiamo david quello lì oh che tu è di corciallo ma che madonna ma non è fatto pure la cosa delle finestre c'è tre anni per saltarne una non è che va personaggio e personaggio su sta scopo cioè era lontanissimo questo qua ci ha impiegato tre ore a a saltare questo avuto tutto il tempo per attaccarmi c'è boh c'è penso che la facevo normale e la facevo più veloce guarda eh non sta arrivando nessuna e il che io sono andato sembra sei delle due vicini o sei quello lontano io sono quello che si sta muovendo ora ah aspetta no vabbè che è un po' che è un po' a momenti e veloce vini mini mini cori cori corretti poi riesco a seguire mappure di amacuro porco o.o.it minucian pre assentamento vediamo sto cos'è sentimento un po' io forca puntata trovate top cura un po' poi quando per il cuore della sola l'avrei dottore che tu avrete niente lo è la bravo c'è bravo un cazzo dottore easy da usare però toccato che ti mi faccio ucci d'irrata mi succederà pari da avere tu avversario nero fammi cazzo parla no ma devono togliere sta cosa è troppo p non puoi usare niente non puoi cuorarti non puoi fare un cazzo cazzo sei qua eh qua qua non riesco ad arrivare è un cazzo da arrivare tanto no niente non riesco a che muoio ma che cazzo dai no non è che si allontanava dal muro no no cosa ho sentito chi va a salvarlo cazzo vuole me eh 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 niente non ci casca non è stupido cioè è stupido in realtà ma non è toppo stupido no ho corresti la vita bobo domani guarda domani c caso si va però mi raggiunge c'è veloce come la eh allontanati dal muro in caso si becca là mi pare che il pallet non c'è là cazzo non c'è veramente la c'è la c'è la c'è la dove sei ora c'è madonna che laggato o che fps basso che mi ha dato ok anche se sono dietro di te mi ha preso bella dio mattone dio yogurt sono tutti di ma di diverse categorie ecco bravo lasciami sta roba eh assenna me ma la presa ma dai ma come ha fatto a prenderla perché c'è te no aspetta lo soffino del genere qua ma dai ma si è affatto a prenderla del genere no sta roba no però vabbè dopo poi ti farlo che è un proprio disco lo skill check proprio al momento guarda ma che cazzo ti skill check veramente guarda io a salvarlo eh che sta tutta in eliza è qua che campo no se riesco no ok ok va se riesco ma perchè sei andato ma dai ma che cazzo ha otto ma che non fai già nichi c'è rancuno grazie a cazzo che fa rancuno no vabbè sto cazzo di ehm zio dai finiscono il gioco eh sono ritorno a tutti e due stiamo facendo già entrare corri corri jake adesso scappano tutti e due vedo o stanno fermi oppure si nascondono appena sento nel bar eh c'è un muore lo jake parco ehm mi ha fatto senza prendere scintilli mi ha portato 3 poi dopo venire una foto per 4 che ce n'è uno da far finire sì ce ne sono un po' vicino infatti eh lo so ho visto aspettami non si riesco a scegliarlo ma è dubito no eh faccio al muro anche ma forso ho capito quali intendi io sono qua tu cazzo è morto ah vabbè che me ne frega ah questi bug c'erano uno prima dove abbiamo finito c'erano uno quasi finito a metà allora andiamo ma era pure l'ossessione anzi finiamo questo va che ho pure vicino l'uscita tanto l'hai adesso impegnato con Ricky Nicky 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 quindi anche adrana lì a questo punto se riesce a tenerlo così tanto no lo sta portando qua almeno che non sta venendo il killer di sé ecco la cosa per quattro ma non lo vedi ma adesso d'altra parte puoi aprire te, un'altra testa di prova mi arriva subito da un'altra parte che cazzo non ho visto anche per il premere spessimi. c'è che l'ho premuto prima non l'ho visto ma comunque la proposta eh vaffanculo si ma se arriva allo schermo proprio neanche nello schermo dai cazzo vaffanculo ed abbiamo finito quest'ora vaffanculo vabbè lo prendo io prendo io prendo io prendo io prendo io se finisci non vuole me tanto giustamente che cazzo che fai in gen vaffanculo vaffanculo ma non muovere il tono ma la massa così lunga non c'è adrenalin no 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 è che schifo da questo l'avevo salvato un'altra volta della quarta volta che ti salva beh niente sono morto no borgo dai sperando che non abbia barbecue ma non penso non lo so vero che c'è l'ho di 6 ma sono proprio nella 4x4 c'è best mentora ma vedi che il campo è da sopra ma tu ce la puoi fare se credi nei dèi o yogurt uh sono andato che stupido mi sa che ti dico aspetto che venga aspetto il battito per salvarti ok vai me la me la data fammi andare prima o mai eh dammi il colpo di cazzo guarda che mi puo di blocco sto stronzo guarda corre ma ce l'hai anche tutti vorrei avere delle cose ma non ce l'ho ah già perché sono da adrenalin beh ce l'hai fatto eh vorresti neanche quello ti do il punto ma si ma campero un po' di più tanto non è che da fastidio eh no no esercito si no uh 2 pipa si si 2 pipa ho fatto bene no era anche 4 era eh adesso devo usare fra un po' devo usare Quentin Smith per fare l'archivement quello la di usare solo le sue abilities k però non ora perché tanto non ce l'ho al 10 se questa mi invita no se n'è andato ti metto io come se n'è andato no eh se n'è andato adesso che devo uscire continuiamo noi ma è che si qui e perché non sa giocare boh no così mi ha scritta ha detto pure che ti saluta salutami a sorte dai sto anche strimando ma chi se ne frega guarda me ne frega un cazzo perché si sa che lei è una fan sfegatata dei tuoi stream ti vede tutti e questo si chiama come te una volta no non è vero se n'è andato hai visto? no aspetta ho controllo dello stream 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 ma che immagine proprio cioè strada su è la mia guarda non so quale sia la più la più stupida non mi caga dai non mi rispondo Kain Kurosuji che caspite non era? non era come mi chiamavo prima non mi sono mai chiamato così solo in tre puzzano sono individuali dove senti un brutto odore uno è là non risponde io adesso lo faccio morire a questo mi ha salutato buono buono in quanto ti stanno guardando lo stream tua sorella tua figlia tua madre no no e poi mettiamoci anche tu ho già detto siamo in zero non c'è neanche la scritta visualizzazioni ah no uno spettatore che non sono neanche io come no scusa sei te che sei entrato? non so non era entrato non era entrato prima era soltanto la stai andato è sos io 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 copro rispetto a tu no dai no poi poi che non posso non so non so torni per forza per non 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 ma questo è proprio sconnesso dai ero un arabo questo proprio è un'altra cosa non da quando non ti ignora quando vedi lui lui è un sorpresone lui è un sorpresone io non lo prenderei io non lo so non l'ho visto giocare ma boh ha 500 ore di gioco quante? 500 contro me più o meno 497 vedi a chi metti a vedere ne ha 47 e ma quali? poi io ne ho a tutta della fuga ne sei uscito vivo fuga agonizzante fuga dal retro ti copro le spalle non si abbandona nessuno medico tutto fare nervi d'acciaio fuga perfetta nessuno non ne ha risveglio niente male ci aspetta quanti archivimenti ha questo? 47 su e uno 65 adesso ha almeno le ore di lui quindi niente lascia stare quanto ne ho io a proposito? come fate? ne avevi 100 quando ci siamo con la mia tutora richiesta ne avessi un 200 che schifo? che schifo? che schifo? che schifo? che schifo? che schifo? eh ma io non lo so killer quindi non lo faccio io mandami il suo coso intanto mandami richiesta d'invito e il suo profilo andiamo un po' solcherizzare ma poverino? ma poverino cosa? ma già io non lo posso vedere perchè non l'ho accettato ma io non l'ho accettato l'hai acceso a prenderlo io non l'ho accettato già uno che ha con jerry scotti tra gli amici dai no vabbè no jerry no a proposito a proposito a proposito a proposito adesso sono rango 12 non mi ha tolto più vabbè ottimo gioco devo dire il bello tin 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 questa questa ci sta eh? aspetta no 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 lo so aspetta no lo so ti sei fumato una cannetta con gli amici vai a liber ah ma qua devo mettere redi eh beh si aspetta no lo so aspetta no lo so maia? la vedo ancora individua eh questo è sempre lo è sempre eh? questo c'ha le ore senza giocare lo è sempre lo è sempre lo è sempre si si non vedi che è assente io ce l'ho in chat c'è scritto assente alista e candy candy alista o alista candy boh aspetta un attimo caspita che si devo dire assente ah assente ah ho detto assente che cazzo senti che parli ero un pugno ti aspetta un pugno un pugno poco la testa perchè mi era mancata ass ho sentito solo perchè sente è assente ma che cazzo è che è come alberto senza orecchie perchè sordi niente niente stai alista eeeh no eh non si fa così non si fa così eh non sono altamente d'accordo con ma no hai cambiato nooo come osi cambiare foto profilo jerry scotti ma guarda con quale faccia con quale faccia no con quale faccia con quale faccia ve lo dici vai io allora mi metto paolo buonore aspetta nooo aspetta venite a prendere di filippi rudy zerbi minchia coppia pelata chi mettiti rudy zerbi prendiamo con doppio dwight pelato ma io non ce l'ho potenziato fa cagare il mio ma chi se ne frega ce l'ho all'uno ma chi se ne frega ma cosa chi se ne frega ci muoio ma chi se io ho fatto paolo bonoli paolo bonoli vai ti sei cambiato il nome aspetta vai ti aspetta no dovremmo trovarmi una foto profilo vai la figa sai come accade ai nostri piedi ora paolo bonoli si è già riscolto no uno ignorante proprio come meme chi puoi essere bruno vespa non vuoi essere no vatti va dai mettiti salvini dai salvini ci sta facciamo salvini e di maio faccio di maio eh ok ok ci sei ti faccio salvini faccio all'asta con un padre vorrei farlo io salvini onestamente però no 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 ormai è andata no no ormai è andata faccio io salvini troppo tardi troppo tardi troppo tardi troppo tardi salva salva immagini e con nome scrivo salvini di merda di merda di merda di merda aspetta devo andare nella mia cosa nella tua cosa ruspa e metti dietro parentesi ruspa si si allora come si chiama luigi no si chiama luigi no di maio Luigi di maio qua controllo su internet va Luigi di maio facebook si si vai Luigi di maio poti immagini incontriamo i veri Luigi di maio salvini su dbd si si troppo vai mamma mia quanto sono fiero quanto sono fiero sono fiero di mezzo il mio profilo ah già ma io non potevo essere salvini perchè sono della calabria eh facciamo un po' di coerenza dai facciamo un po' di coerenza eh giusto io sono del nord e devo farlo appunto appunto giusto così giusto così ma andiamo a conquistare il popolo di dbd aspetta un attimo che non me lo trovo non so perchè a me non mi ha cambiato il nome sul gioco però allora dove cazzo me l'hai salvato eh pezzi in merda va vedere la nostra chat tizio ha cambiato il nome in che coglioni che siamo no perchè questa si chiama pura ignoranza aspetta una non si può vivere senza ignoranza poi dobbiamo trovare un terzo e chiamarlo conte giusto? esatto il tuo full bring il tuo amico full bring allora adesso dovrei trovarlo e poi si ritorna Angie magari la facciamo chiamare boschi cosa? Angie no? oh my about vediamo olè attenzione dimmi se va bene questa se no la cambio ma no 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 eh no non ti metti il nome eh lo devi fare un po' giù però o non c'è la fronte ma no a me mi fa vedere la fronte ah aspetta e falla scendere un po' giù c'è con paint non c'è la modifica con paint se no prendo una normale guardi una come la mia hai vista la mia? no aspetta devo andare a vedere ah ok ok ma devo mettere anche il nome guarda che la trovi uno tipo quella la mia che indica facciamo una bella accoppiata eh si aspetta andiamo un attimo se lo trovo oh si però non fa tipo fa tipo non fai niente basta che vai qualunque sia so già che fiera allora allora choose file va bene vai su eeeh vai su data d vai su questo se magari me lo metti eh 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 non dirlo così proprio no devo chiamare Matteo Salvini e poi tra parentesi ruspa come se c'è l'ora le dita non c'è l'ora non c'è l'ora non c'è l'ora Eeeh 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 Ma com'è Ark? Visto che ho visto È quello che voglio cambiare Cioè? Quello che non mi ha chiesto il rimborso Perché non mi piacciono i... Cioè vabbè non è che non mi piace Uno mi ha scritto Cosa? Uno Uno dei miei amici E scrive anche Ruspa Dopo Prima metti Matteo Salvini E poi tre parentesi di Ruspa Senza H o o con l'H? Mmmmm No, fai senza dai Ecco fatto Dai ha visto cosa c'è scritto aspetta che cosa c'è scritto nel commento da te ho scritto un commento ma i killer appena ci guardano se ne vanno via correndo se provengono dall'africa ecco già comincia a laggare vedi ah no che si è abbassato questo italiano perché gioca a paladine oh zio oh zio cosa c'è scritto da me ruspa anche ma questo si chiama car carlangast vuol dire che ci voleva chiamare carglas carlangast ma quindi ogni volta che tu cambi nome i commenti i commenti che ti lasciavano si scompaiono no rimangono ma perché io c'ho solo il tuo l'avevo altri mi ricordo ma l'avrò tolto ma se cambi non mi rimangono ma vado a scrivere a tutti vuole un po' di reddito vuole un po' di reddito mi ricordo mi ricordo Mi vanno tutti a casa No porca puttana Questo non va bene E' una prova Questo non va bene Salvini non approva questo fatto Mi sa che il pig si infatti il pig Giustamente sai La sua mafia Non è il pig Si 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 Ho sentito il battito Eh, forse che non ha un'accapacciata Ma questo da dove sbucca? Chi? Ma da copra mi sono cagato in mano perché questa stanza è chiusa Ve lo sono ritrovato dietro che la porta per entrare qua davanti a me ho detto madomma Mi sono cagato Venuto da su dal cielo divino Arriva Sono Luigi Di Maio Come ti permetti Questo non è Italia Mi sono incastrato questo non va bene Bisogna cambiare le cose E' il momento di cambiare le cose Io non vedo il killer Dove cazzo è il killer? Non lo so Io non sapere questo Eccolo Vai Dove sei? Ah, Ruspa! Ruspa, vieni con la Ruspa! Mandalo via! Riporta la cazzo e mi metto la trappola Dove la polizia? Dove la polizia? Quando serve non c'è Io non capisco Dobbiamo cambiare di taglio Sta laggando, sta laggando Non mi, non mi Mi teletrasporto Ti ha messo? Ti ha messo Ok, forse ti ha visto Non mi ha visto E' cieco, e' nabbo, e' scupido Mi ha visto Porca puttana No, niente Tutti afferricene Eccolo Mi mando tutti a casa No, se non venite ad aiutarmi Wow Non mi direi che campano qua dietro No, no, è qua da me Ok, ok Eh You wanted, Popo Devo liberarmi da questa maschera Perché non è possibile Vivere in questo Italia così No, no, perché è venuto Perché questo è nabbo Eh, niente Ecco, parlo di nabbo E' nabbo perché Stavo solo su un pallet E non ce la faceva più Yamer da tre ore E vive le cose giuste Tagliarsi soltanto un braccio Per salvarsi l'altro Così che si lavora in Italia Uh, grande Eh, lo sa che c'ho il decisivo Ok, arrivo, arrivo Arrivo a fare bodyblock Con te è lontano, Luncino È troppo Vecinissimo Cazzo Wow È andato a covacciarsi Non la vedo più Anche io Era tipo qua Ma ancora non c'è più Ma la c'è un copo Tanto mi è acceso È vero Mi curi È vero Io però Ma che c'è una testa di cazzo Però lo posso dire Ma che cura Ti devo oltre il cazzo Ti uccido la famiglia Prima cosa Che divo la speranza Trovate una ruspa E caccia di quella maschera Oh Eh, certo, no La fortuna è da sempre dalla mia parte Questa è colpa dei clandestini Ricordo delo sempre Dove sono i generatori? Ma io in questo momento Non me ne frega un cazzo Ti andrò di sopravvivere Tanto muori di maschera O muori di uncino Due sole cose A te l'ho scelto C'è qualcosa Tra il quattro di fila Così Te lo sto vedendo Oh tolta Bella, cool Nice Fatti curare Fatti curare Fatti curare Oh qua da Qua, 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 qua Aspetta Sì, sì, sì Occhio Quello ho visto Finchè ha fatto un 360 A spirale Non l'ho colpito Ah, su se stesso Praticamente Sì, sì Sta laggando un botto Questa qua C'è un ping assurdo Va bene, manca uno Eeeh 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 Volevi Eeeh Ci sono rimasto male Guardalo come corre Pio, pio, pio Troviamo l'altro gen Sento la boschi Ma non so dov'è La Boldrini La Boldrini Dov'è con la loro Da punta La Merkel Ma vedi che è È una tedesca Quindi la Merkel Ma la Boldrini È più tedesca Degli tedeschi Poi sandali Se ne vai in giro Con sandali E calzoni bianchi Degli tedesca Come si rinnessi Segli Salvini Questo non è città di Italia Ok, scatricati Di te Eeeh Eeeh Luigi Di Maia Andato Salvi di Tricore No, però Città di Tricore Tutta l'Italia Da solo Potrò governare Tutta l'Italia Da solo Mi incastro nelle casse Questo non è città di Tricore Qua c'è un altro Dove Ci sono Non so come dire Sì, ho visto Ho visto Ho visto Eeeh L'ho sentito Ho tali shot Fai geno Fai geno Cos'è mia antiva adrenaline Ma non so dove sia Madonna che velocità Che aveva Blue the last Al 5 Di sotto Sotto Scendi sotto Scendi sotto Scendi sotto Scendi sotto Ah già è la cosa Aspetta Ah ti ha visto Ti ha visto Ti ha visto Ti ha visto Oh mi ha preso Vai 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 Che cosa ce la fai Ora 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 Eh l'ho fatto Ma Ma sei Ma c'ha Lightboard Forse Eh Sto cazzo Boppo Sono sotto Sono sotto Sono sotto Sono sotto Comunque Qua Provo qua sotto Di me Eh sono Stanno Mare Sotto di me Sotto di me Sotto di me c'è un generatore Così Finito E adesso ti venga A salvare Eh ma ti sta camperando Non Non correre Quenti smito E certo Chi vede Vede me No perché Quenti smito Deve sbagliare Quindi ci devo andare Di mezzo io Mi sembra una giustificazione Logica Gioco di merda Guarda Perché è uno sbaglio Quindi ci devo morire io Ah sta con l'inizio Cioè C'è una grande E con la maschera Mi fa attagliare C'è proprio Diggi E' un uomo E' un uomo Beh mi è ammazzato Ah perché c'era con lui Luigi Di Mario Mi ha metto la maschera Poi mi ha detto Nell'izio D'auro E' intelligente Tu non capisci un cattro Bo che fanno anche Che Un cura di sé Se tu Se tu interrompi Il cura di sé Si fa da cazzo Sì sì Come avevo detto E ma vedi C'è tutto Tutto a favore Del killer Sono favore Un sacco I killer E' un po' Ci ho parlato Con uno E ho detto Oh meglio meglio Ma che cazzo Dici che aveva già Scusami Mi ha detto Ma non è arrivato Il killer Il noed Il noed Il noed Doppio Don Viola Ed era nabbo C'è il noed Quindi Si Istruite tutti i totemi Ok quindi Devo trovarli Dove lo trovo Non farti curare Scappa Oppure salve A proposito Ah già Ho uscito Già Sono già Sbloccato Cazzo E' qua Troie C'è pure barbecue Siamo Sono troppo vicino No Sei dietro di te No No è lì che è camper Lì che è camper Sì 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 Trova 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 Io vorrei Trovare Vai corri Corri Che tanto quello Donnellizza sotto Camper Eccola l'uscita Uno sta prendendo l'uscita Ed è Ed è Della merda Perché c'è killer Prova a salvarla Allora Ma che stupido Me l'ha portato Guardala che farm Ah no Minchia per poco Occhio che l'avvicino Al killer C'è Ok vai ora Vai ora A salvarla veloce Madonna che finto Gli ha fatto C'è proprio Stato scarso Il killer Come ne sta andando A salvarlo Mi senti? No Poi? Si è esploso Discord Pensavo Io stavo Continuando a parlare Dicevo Poi è andato No Deve essere andato Che lo stavo seguendo Vabbè Andiamo alla prossima Quenti Riusciremo a portarti A livello 10 10 Eh si Perché mi serve Per fare L'alcine Di merda Di merda Di merda Di merda Di lo contono Di merda Niente Mi vieto Di merda Per la ruspa Potevo fare Silvio Berlusconi Potevo fare Mr. Obama Mr. Obama Mi consenta Io voglio un'Italia Più unita Nel cuore Delle carte Io ci credo Azziamo Lo stipendio Dei vecchi Eh si Perché tanto Non lo metto in giapponese Il nome di 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 Maio No 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 Tu non lo fai Perché se no Io ti ammazzo Ok Mi perdono Il signor Mr. B Oh no Cazzo Cazzo fatto No Stai usando lui No Mi fai No Non ho tolto Questo a me Ma non mi serve Perché tanto Non posso Cioè non ho niente Con lui Non sono neanche Livello 10 Ma Zonna ragazzi Cosa ho fatto Cosa ho fatto Cosa ho fatto No Non ho neanche Morsa di fer Eh si Morsa ad acciare Con cazzo Si Ma 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 Che non ho neanche All'uno Oh 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 Ma Ma Sì Io voglio lui Sì Sì Lui Lui Guarda che Corre Uh Quasè Sino La nostra Sinistra Vai Sempre Insieme Il destino Ci porta Così Ma dove Sei Va Non sei tu Questo Scusa No Io sono Qu載t Svitto Ma Cazzo vero c'è una cadetta allora qua che killer non lo so, non lo vedo eh Myers madonna guarda si è ceppo e Myers che fra un po' mi trovava ma sta arrivando alla 4x4 no quindi dall'altra parte bene noi abbiamo finito questo incendio casa grande senza ruin ma no no senza ruin ma ti fai sesso cazzo mi ha visto porca puttana me l'ha portato da me rushpan non mi stalkerizzare per favore perchè cazzo viene ah la puttana puttana rushpan 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 ehi ehi rushpan ma non hai neanche adrenalin con quello o almeno quello si no 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 signor la paghiamo e lei ci ci ricambia così questo non è governare ehi vorresti guadalo che faccia mirso incasseto manda la richiesta a zeb ahahahah perchè ahahahah ma stai lagando però frate frate? oh cazzo eh frate eh si ce l'ha con me è incazzato però quanto è il ceppo quanto è il ceppo ehi vorresti ma l'altro che sta facendo sono morto sono morto sono morto anche male ah era ora eh ma me lo son tenuto fino adesso vorrei vedere l'avete fatto 3 generatori che bello stiamo facendo il quarto eh io sono morto perchè mi ha messo alla quattro ore alla basement no tranquillo ho il borrow time ho la forza dei clandestini con me rushpan siamo già a metà a quest'altro eee qual'altro sta arrivando ad aiutarti? ooooh è nascosto è nascostissimo è nascostissimo guarda guardalo non si muove popo la potrò si accade a lui allora ma io arrivo ecco è finito eccolo il ceppo mi ha visto mi ha visto mi sa si ma quello resta nascosto dai ma che due coglioni guarda Michael Jackson guarda guarda la cazzo è si rende conto hanno fatto pure le finestre Tane elizzi arriva 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 arrivo occhio 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 arrivo là ho visto madonna se Tane elizzi frate ma proprio diretto eh neanche per dire bobb sto volando inseguire l'altro Ma che velocità ha sto qua Infatti no è velocissimo Ho visto l'uomo a partire Nooo Addio mondo C'è questo tunnelizer e siamo a posto Già c'ho Quentin Smith che non ho un cazzo con lui Già è tanto che si sono durato così tanto Perfetto C'ho sveglia E quell'altro per trovare kit medici Le casse Sì Ho votato le casse a trovare più kit medici Ma non so dove Non lo so Ma sto facendo qua Marco Jackson Beh muole morte insomma Guarda come viene spedita questa qua No si ti farmo Tanto io faccio cagare ma tanto te ti tanno inizzo quindi non me ne frega un Eh 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 io ho il popo Allora che faccio Eh Ci sei cascato testa di merda Così mi pare ma posso morirà più benissimo Si 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 è finito Nooo Palette o no? Ma che cazzo No Eh non so se riesco a fare Convatemi per favore Oh si Oh nice Se qua costa finesse avesse avuto adrenaline di nuovo cazzo Prova ad andare dai pallet che ti devo dire Io qua sto prendendo Ma tanto io non ho cura di sé A meno che non abbia no ed Non lo so ma io non ho cura di sé Questo è sicuro No questo vede che è arrivato al 3 Eh no Non c'è no ed Strano Ne vuole me ora Apri Apri Ok Oh È una macchina non è un Meyers È un Meyers Dove Sei salvo? No 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 E quale siete? E' quella lì dove c'è L'altro cosa Non una 4x4 L'altro Cazzo Ah ma che velocità Perché sono l'ossessione? Ah il coso Nessuno aveva No quello che si era Buona 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 Facciamo uscire Dai ce la fai con il design No non è il design Perché è il coso La luce morente Aspetta dai Vodiblocco No 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 Morse di ferro Inutile Inutile Allora devo uscire Tanto mi ha visto Quell'altro che fa Sta arrivando penso Eh ma questo è questo vicino al tier 3 comunque Ma vieni 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 No aspetta No vai 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 vai... Vai 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 che c'è quello con l'altro Ma che non lo prendo Non aspetta Ecco, sto ritorno indietro No, vai 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 No vieni altista No, mi ha visto Sono morto He Золот�ola Sì, ma perché è mai stato 4%? Cosa ho detto? Come potete vado ad arrivare? Sarà lì, scusami eh E' un'altra distratta, ma è proprio distratta, ero lontanissima No, no, ce la facevi Stavo arrivando comunque, non ce la facevo perché mi stavano andando spedito contro il me Sì, ma quello che si è levato subito, però che ca... Sì, dai Tanto credo sia salvo, quindi Questa aveva pure la torcia viola, eh, sto qua, Elo Vabbè Ma cazzo, dai, ma che schifo è? Tutto grigio E' uno d'oro Matteo Salvini che mi invita, grande Sì, ma veramente, ora bisogna giocare con quei perk là perché... Cioè... Quale? Quello che resiste agli stun è forza cosa brutale Forza brutale Ma... Palette ormai sono tipo dieci a partita, ma... C'è una torcia gialla, voglio vedere cosa faccio Niente Eh sì Sono partiti anche i saldi di Steam Prossimo gioco che prendo, Hearth of Fire Appena posso Appena posso me lo... Sembro... Savini accetta Accetti per favore Oppure quell'altro Accetto l'accetta La... Ruspe... Non ho letto Per un'Italia migliore ve lo scrivo Per un'Italia Per un'Italia pensavo... Cioè... Avevo... Avevo letto in inglese perché... Io lo so parlare in inglese, signore E' tutto male Cazzo Eccolo Guarda eh Io dico Larry Eccolo l'ho incontro Di simulazione... Di simulazione potrebbe essere... Uno che usa molto... Del tasto destro Quindi o l'Urss O il mandriano anche... Ah di simulazione è quello? Si O lo spettro? Nooo Beh... O Myers Myers pure fa pochi punti No, quelli... C'è quello con la moto sega, l'Urss E' il dottore Eh però anche Myers Lug pure Lug soprattutto Oppure può essere uno che vuole solo far punti e quindi l'ha messo a caso Ma perchè ci siamo... Forse che l'ha messo così a caso Se uno che dice... Eh appunto... So giocare, gioco, me ne frega di chi ho contro Tanto li faccio fuori subito Tanto barbecue Arrivo là Tata morti Tanto annoyed Tanto... No annoyed... Vabbè sì, annoyed sì Tanto Ruin Ultima speranza Questo si va a comandare Valedizione Quello dei servi Quello... Che ti dice... Ti fa la notifica Eh... Non ti farà speranze No Ah... Terzo sigillo No... Quello che ti dà la notifica se... Se qualcuno sta andando a notifica Ah... Cacciatore di totem Vabbè qualcosa Cacciatore di qualcosa Si vuole... Oddio il dottore Te l'ho detto Però con la skin figa mi sa Guarda... Guarda... Ma sta fermo Si È fermo Bene, bene, bene È fermo ceppo popo Guardalo Oddio Guardalo quanto è ceppo Eh adesso è ritornato però Ruin No no È fermo perché io ho urlato È ceppo Sono davanti Guardalo quanto è ceppo C'è buono di merda Lo vedo, lo vedo Ho trovato il ruino pure Ecco ho ricominciato Correre Sei svegliato Se andava 4x4 Bene, bene Dall'altra parte Ma cosa aveva? Ruino No Te l'hai anche detto Mi so scordato So Cassetta gialla proprio da schifo Puzzati di sotto Puzzati di sotto Puzzati di sotto Puzzati Beh L'uomo Acco Aaaaaaah Ace Visconti È morto Ace È morto il Visconti Beh, ma non va giù il pallet Sì eh Dov'è niente dall'altro lato Eh, mi sono messo dall'altro lato Ma non va giù comunque il pallet E mi incastro nel nulla Il nulla cosmico Ma che cosmico Non è Ma che cazzo è? E mi sono avuto E mi sono avuto E ti pungere il piatto E non ti pungere il piatto Cazzo Quanta violenza Violenza Dai, finiti tendo così misi attivati patrinalina Dai Finito il gene? Oh no, viene qua Oh no, non viene più qua Sì, dove vuoi mettermi lo scherzo? Oh mi merdi Bravissimo, Luigi Luigi Arrivo Gli do una bella ruta Mi ha perso, mi ha perso Grandissimo per un'Italia migliore Così bisogna essere Sta perso, rogo spa Guardalo in cima alla collina Tutto cecco E' king of the hill Guarda, guarda la lentezza La lentezza di salire se scato Se cazzo di finestre Arrivo, arrivo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Reloce Arrivo Te l'ho detto, veloce Pappaculo Ahia Gialla, trozzo gialla Sì, ma volevo... Non pensavo che cazzo così lento fosse Eh, è l'altro giallo, sì Sì, è stato partito tipo mezz'ora dopo però Alzo la prima a scendere dalla finestra Ma qua c'è impiegato 60 anni Cioè, gli ultimi... Tutti gli altri scavalcano tipo parkour Solo io Si deve mettere il ginocchio prima E' un po' che era vicino Ah, c'è un po' prezioso Ok, ma... Scaffate Bute sciocchi, ce l'ha come E' l'uomo ago Guarda se si leva dei coglioni questo Sì, è vero E' una No, no, ma è lì Fermi invece di correre Eh C'è pure il perk del clown di merda Sì This E' l'uomo ago Gli sta bene, cazzo Gli sta bene Pure K.O No, no, K.O Non lo vedo Allora l'uomo ce l'ho Perché io ero vicino Cioè, insomma, vicino su 30 metri Io sono lontanissimi No, ce l'ho con me Vado io Vado io allora Cioè, quelli del gioco non se ne sono resi contro Oddio, cos'ho visto Cos'ho visto Ho visto Volare Ho volato Volare con te Volare con te Siete questo, quella torcia Cazzo mi ha visto Eh, ho... No, forse no Sì, 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 sì Però non so dove sei andato Sto cercando l'armaglietto Vai, veloce Prova, vai, vai, vai Preparati, vai No, cazzo No, veramente non ce la fai Voodie blocca Prova, voodie bloccare Eeeh, che bocca No, 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 corri, corri, corri Qua vicino Orta troia Scorrere Corre Sì, ma se mi blocco nei gommoni In questi gommoni L'Aquarius Vada Ruspa Eeeh, vorresti Anche domani, guarda Le ruspe non scivattono Eeeh, che urlo Salvini, che cazzo Ma cosa fa quello? Madonna Invece di curarmi sto pezzo di merda Ma cosa fa? Ma è che... Madonna, questi due Eeeh No No, mi ha ripreso Sì, però mi ha ripreso Ma sì, ma dai E' gioco di merda Certe volte Ma dove va? I cazzo di cacassotto Ogni volta Dove va? C'è ancora con me Cosa sta facendo con me Adrenalin sto cazzo Aiuto Eeeh Se invece non parla ti immagino, no? Qua abbiamo aperto, è dove abbiamo finito il gen Dove si è servicino No Non abbia il no, Ed Non credo Ma aiuto Eh, 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 eh Niente Sì, ce l'ha Ah, no Cazzo Eh, niente, son muo Ce l'ha, ce l'ha Eh, se ce l'ha Eh, lui non è lui Certo che è lui Enzino, iacchettino Cazzo Cazzato nero, guarda Non ti prende? Ok Cazzato, vopo Cazzato, l'ercio Ho trovato Ho trovato Un po' l'ho l'occhio Eh, mi sono stampato Praticamente Sì Abbattato Per usi tenacia, però ce la fai No, tutto il mio fatto Spento Guarda che è qua vicino Allora il totem Incazzato nero Se n'è andato Allora è ritornato Cosa fa? Oh, è un pazzo Ma dove cazzo è il totem? Un altro totem è spento Ma che cazzo, no Guarda che l'avvicino Allora veramente Per questo camper Non lo vedo io da qua Sì sicuramente Guarda L'ho sdistrutto quello con ruin O io provo la fuga No, 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 no Non esiste, esisti Tutto non avrebbe essere più da qualche parte Parlo Madonna, lo sottizio Veramente Non farlo mai Eh, quello se ne va Ah, no, che non se ne va Eh, ma quello l'altro non fa C'è quel altro che non so che cazzo stia facendo Mi sa che se ne va Ho la presa E' l'uomo ago Che ti punge le chiappe Il porco spino Che ce lo dà nel piano Porco ano Se mi becca con Vai esci esci Cioè non si trova Posso cerco io? Adesso aiuta anch'io tanto E' l'uomo ago Che ti punge le chiappe Non l'abbiamo trovato ancora? No, non esiste Ho trovato due totemi spenti e due Rotti Ma quello del no è ovviamente Non c'è giustamente Solo quando gioco io Ho sopravvissuto il totemi Oh qua c'è la botola dentro La 4x4 E allora vai Che tanto ormai siamo andati no? Che tanto ormai quella è andata Anche se togliere il nuovo door Veneesco E' l'uomo ago Ma che cazzo è il totembo? Guardalo anche con vicino Tazzato nero poco Però non mi sembrava neanche Che non avessi Perché non è che ti veniva addosso Oh adesso devo usare Quanti smith e sopravvivere Sarai Easy Sarai Easy Cazzo Ok dai Devo farci Luigi Di Maio Andiamo Andiamo con Quentin smith E sopravviviamo Devo sopravvivere con le sue tre competenze di merda Bene Non ce la farò mai E poi io lo voglio fare anche a rango 12 Non è che lo faccio Quando è a rango 20 No no Perché scusa dovrei Facilitarmi la vita Oh mio dio cos'ha la sua gamba Guarda la sua gamba Cos'è? Oh mio dio Che proprio è Ma non è normale E' una palla Oh mio dio Che cazzo è? Oh mio dio E' uno proprio Questa è la corruzione europea Raspa Raspa Hai fatto la risata di Quanti smith Ehm 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 Dai adesso mi sentirai Oh Ma io sono stupido Non mi son preso un kit medico Ma perché io mi scordo Ma che cazzo di Testa ho Ma con il potere della ruspa Spero che sia Demoli Quella lì Nello spettro Così c'è la ruspa Da Poca Non è vero Non è vero posso uscire Sono fuori Sono fuori Ti giuro Ti giuro Ti giuro No mi riporto da dentro Ehm Oppure ha sdistrutto E' l'uomo Argo Come faccio a capire Che ero qua Boh Si a rovino Ma che rovino Io stavo correndo Per i rifatti miei Ma ho saputo Che ero Qua a caso No che palle Ma è facile O mai fare sto giochetto Perché Tra blu The last Lagga Si lagga Dai vabbè Ma c'è un metro quadrato Dimitè Un metro quadrato Mettono un po' Un metro quadrato Un metro quadrato Di cosa Io non lo so Guarda Ma non lo so Neanche io Di cosa C'è che Che cazzata E' sta roba Ma c'è Bello Qua sotto Si Che cazzo di cazzata Non ho senso Veramente Arrivo di maio Arrivo di maio Già il fatto che mi ha trovato all'inizio Oh cazzo si con me Questa cazzata Questa covecciata E' inutile E' inutile fare l'amesso Giocato qua Perché Ha il blu La stessa attiva subito Immediatamente Quello se ne va Perché quello non si è venuta a salvare Scusi Perché Perché io lo sta seguendo Vaffanculo va No no Secondo me Va bene E quell'altro non gliene frega un punto Cazzo Ah sta che dovevo sopravvivere con lui Quello proprio se ne frega stracazie Russo di merda Era ora Perché qua sotto Mo camper E frega un cazzo No me ne frega un paio di coglioni Un paio di coglioni Sono russo quindi non vengo a salvare te Io non vengo Ah è un città questo L'ha trovato subito Vedi Appena si è avvicinato Ma vedi Cura lui Cura Ruspa Niente Il potere della ruspa Non è con me Ma perché io mi Devo giocare con questa gente Che palle Ma io c'ho pure il Noid Sì infatti avevo pure il Noid Uno che non so giocare Ma è con il Mandriano Che schifo Ma il Mandriano Ma sto killer l'abbiamo già incontrato mi pare Ha pure sussurra Amaro Capisci? Cosa fa scusa? Quello che quando le cose finiscono Quando tutti i gen sono completi Puoi vedere Laura dei sopravvissuti per 9 secondi C'è questo proprio vuole che non sa giocare Quindi dice va Tanto vinco quando finite voi C'è campera in più Vabbè Questo è un altro senso per E' un'altra parte di lui che c'erano voglia di Dai prendi prima a mano Che buono Sì sì Se le puttaforte no Tanto si è messo privato Nessuno li fa scrivere Come gioco pure io così Ammazzo il primo collaggio Guarda lo che va Sì sì Proprio incazzato nero Cazzato nero vado 360 ragazzi 360 Hai visto non mi può colpire Troppo forte 360 ragazzi Aspetta No no l'incontrare Eh no dai però Ecco Ma ce la va con Jake Park Non lo capisco Si crede divertente Ci vuole uccidere che sto per morire Dai Dai sto per morire No lui sto per morire io Hai recuperato? Hai che sta facendo? No Oh grazie prendi me Ma che c'è vuole Intelligenza Ma che cazzo è Guarda quanto corre Ma che cazzo è? No non c'è l'agitazione Come no guarda quanto corre Non c'è l'agitazione Che gioco di me Eh sì Eh sì Fuggi e esce Posso farci impiegare Eh Eh No fugge Adesso ero Amato della fuga Guarda Dai vai vai Staglio il colpo Ok Niente Certo Eh poi giugno Andiamo 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 Mori 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 Aspetta che prendo quei 100 punti Capirai Ecco qua 181 Vola Berlino Beppe Vabbè devo comunque farne un'altra con lui perché devo sopravvivere Giacomo Parchi va a far culo Giacomo 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 Eh si deve spiegare perché alle 20.15 Hai visto allora Qualcuno che ha il mio favore che alle 20.15 L'ipnotista L'ipnotista Magari E quindi ipnotizzi qualcuno Ah si Magari qualche amico O qualche amica Eeeh 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 L'ipnoti Hypnota Chia Ah Come fanno le mie gambe, Giacomo, 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 Giacomo... Quando tremo, Giacomo, Giacomo... Ah, già, cosa dice quando tremo, è quello che fanno le mie gambe, Giacomo, Giacomo... Big boss for you. Ah, boobs. No, boss. Eh, certo. Eh, guarda il soprafilo. No, sono andato, eh, sì, ho visto, è una streamer. Sì. Tutta nella streamer. Cassato, brutal legend. La chiedo all'amicizia. Eh? La chiedo all'amicizia. A chi? A quella là. Ma secondo me è falso. Ma se... Ma... Ah, guarda che porcellino. Chiedilo, dai, chiedilo, digli. Vuoi fare il pesce un pesce? Pum, pum, pum. Il pesce un pesce. Non, tu e diglielo l'amicizia. Chiedi l'amicizia e fai con Luigi Di Maio, se non lo fai, sei un cattolo. Stamalaio. Andiamo. Il pesce è pesce. Hai chiesto veramente? Che faccio, lo faccio? Eh? Ah, sì, dai. Fallo, vado. Vada. Fallo, che te frega. Cosa? Eh, che te frega. Che te frega, fallo. Con la fallo di gomma. Vai, mettiamoci questo. No, anzi, no, io devo usare Quenti Smith. Non posso usare lei. Quenti Smith. Guarda quanto è fiero, così. Dai bruttisci, no, anzi. Stavo spontaneo. Mi è insanguinato. Quindi te l'ha accettata l'amicizia? No, ancora no. La tetona? Ma sarà un falso, sicuramente. Ma secondo te? Eh, secondo me. Ma è possibile? Ha 14 amici poi, tra l'altro. Eh, quindi non sarà mai. No, ce l'avrebbe un 90, solo perché è tetona. Eh, viva, partiamo in due. Kiri e Skywalker. Luke. Skywalker. Source. Perché aveva l'immagine di that? That, come che si chiamava? Art Vader. Ecco. Ah, Darth, neanche detto. Cosa io scrivo, qualcosa che io scrivo. Sei, sei, sei. Sei prodotto da solo. Sei tuo padre. Tuo padre, tuo fratello, tuo fratello, tuo nonno. Eh, no, che falle. Tutto luminoso. Bene, bene. Immagina, immagina che mo' è tipo l'ospedale che non c'è al fuori. This is, source. Che ore sono? Sono, sono, source le... 18 e quale. Le 16. Josh dopo Josh. Josh dopo Josh. E uno, e due, e tre. Le baldrak. Le baldrak. Parliamo di Salvini e Di Maio, avevo un posto sopra di Di Maio, adesso c'ho Salvini davanti. Troppo vaccini inutili e pericolosi. Vai, ricordati di sta frase e scriverla sul mio commento. Oh, bella sta mappa, sono alla... Sono alla cosa grande. Cos'è la cosa grande? Ah, vuoi di caccia grande? Non è un Myers. È di tutto. Hai ruine come sempre. Che sono lei? Eh, la cacciatrice. Oddio. È la cacciatrice. Ho sentito un chink. Sai quando l'aumenta alla massima per lanciarlo veloce. Ah, sì, infatti, infatti. È pure prestigiata. C'è la con... Io non la vi. C'è la con un Ace. Oh, totem, provato. Beh, l'ha stato chiedendo un altro. Ok. Adesso c'è la con un Ace. Sembra bravo quell'Ace. Secondo me con la cacciatrice... Ecco. Lo sto proprio per dire, secondo me quella che ci dice c'è. C'è la cacciata manshot. Sì, sì. Lo sto proprio per dire. A quanto ne può avere? Quanto ne può avere? Scusa, due, Massimo. A carica. Tre, 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 Massimo. Porca puttana. Ma tre, Massimo, fino alla fine o tre a carica? No. Tre a carica e poi le ricarica, ovviamente. O se c'è il perk, se c'è la don. La don di base se li riduce a uno. Poi devi mettere l'altro per aumentarsela a tre o a due. Ce la com'è. Ok. Ha pure tornato a capire. Pazzo, ma dai, l'hai brava, eh. L'hai prestigiato. Eh, ho visto. Purtroppo ho visto appena mi è arrivata in faccia. Ma non mi dà il battito. Non mi dà anche la cantilena. E con la... Con la cetta alzata non la dà. Non canta. Bazzzo, lo può darsi che c'è sveglia, no, con... Insomma. Eccolo. Ritornate indietro? No, sta venendo la acqua da grande. Madonna. Vabbè, questa è persa. Sì, sì, sì. Cazzo, c'era il pallet, non l'ho visto. Ma guarda, ma... Cioè, vabbè, tolgono i pallet, ma gli uncini li mettono vicini due due metri l'uno dall'altro. Lo va a venire. L'altra sopra quell'altro. Ha, ha, ha. Un colpo. Lui da troia. Non li portare qua, no? Ma come non lo portare qua? Vuole me? Vuolevi? Curate me, curate me, curate me, curate me, curate me. Curate me, curate me che vado a terra. Madonna, ma perché non mi curano? Inizio. Ma perché ce la devi avere con me? Cazzo, ti ho fatto di male, io. Lui da troia. Eh. Io wanted un po' po'. Vai, prova a tenerlo un po', ma ce l'ado giù. Tipo l'altro perché non ho... Non ce l'ho più con me. Non so dove sia. Eccola. Mi ha trovato. Eh, mi ha preso. Non mi... Non mi vuole più. Però io... Sono messo la natura. Ma mai? Arrivo qua. Dove sei che ci vengo a colare? Eh, perché l'ho tenuto troppo, quindi. Io non c'ho cura di sé, però. Eh, dove sei che ti vengo a colare? Io sono vicino... Alle rocce. Alla generatore. Alla generatore, vieni. Alla generatore, vieni. A meno che abbia finito le accezze, ma non penso. No, no, eh. Non me l'ha lanciate... Cioè, me l'ha lanciate, sì. Con le shottabili, sì. Però non le hai usate tutte cinque. Sono tre, non cinque. Ah, sono solo tre? Con la donna, sì, con la tre donna. No, dico però, la carica intera è cinque, anche se con gli altri uno shot. Ah, sì, le cariche intera, sì. Senza one shot. Allora, vabbè, sì, comunque non è abbastanza finito. Ah, ce n'è con un altro. Dio gen. Bene. Sono di diritto a quello che abbiamo finito. Ok, ok. Lo skywalker fa cagare. No, sembravo la stessa tenendo, ma vabbè. Che palle t'è andata, fobia. Non andiamo ora. Verso la 4x4. Sì, sì. Ah, sta arrivando. Non correre. Non la vedo. Oh, dai, ne manca uno. Eh, maiano. Ah, ce l'hai sui sconti. Ok. Ok, ce l'ho 4x4, uno. Vai, vai, vai. Dove? Alla 4x4. Sì, sì, sì. Scendo giù, magari c'è sta un medikit. Prova, vedi, giusto, nella cassa. C'è un bel toolbox. Inizia arriva. Sì, sì. Tanto io sicuro trovo kit medico perché c'è il perno. No, non lo so. No, 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 no. No, 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 no. Prova, prova a corrarle col medikit. Ma che è qua davanti a me. Ne ha visto. L'ha presa. Andiamo sto gen. Aspetta che mi tolgo da qua, sennò. L'ho preso con l'eccellente, dovremmo finirlo. Sì. Bello. Porca troia, c'è pure il noid, madonna. C'è di tutto questo. Sì, ma io devo sopravvivere, come sopravvivo io? Ma io provo da provare. Sì, io devo sopravvivere. Quell'altro è pure ferito. Ma poco serve, finché non troviamo noid del ruin. Il ruin, sì, niente. Noid. 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 Prova a venire. L'uscita. Un po' aperto. E' riuscito a venire l'uscita. Sono aperto due 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 due. Totem mi è veramente spento. Mi deve curare. La figa che io ti trovo a totem. Mi mi incastro. L'ho preso. Ma non sei morto, vero? No, non sei. Però mi metto al basement. Ah, ok. L'ho trovato bene. No, non al basement. Non me l'ho voluto mettere al basement. Se mi facecamper, altro che. Proprio face davanti al muso? No. No, no, no. Però sta fermo. Adesso sì. Adesso no, si sta andando a caricare. Ah, era il momento giusto. Perfetto. Sei tenace, però. Eh. Mi ha visto. Come cazzo ha fatto? Vabbè. Cazzata nera. Porca troppo ha preso me. Bella. Corri. Vuole me. Corri. No, no. C'è... Sono vicino al paletto. Capo. No, non ce la fai. Capo perché devo... Voglio farmi... Sì, quella è la sotto che fai Totem. Non lo so. Aspetta, provo a curare. Eh, però lei c'ha il... Niente. Dicidi non venire. Cosa faccio? Ma non sto a facecamperando proprio. È qui che per lusso la... la baracca. Stai venendo in case. Ho trovato l'altra. Dai, si muore. Corri. Niente. Non ritorno. Guarda che ho comodo. Mi sono scomodo. Ma umore. Cosa? Non è vero dai, non mi ha preso. Sì, 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 sì. Ha terminato. Vabbè, vai all'uscita. Vai all'uscita. No, vai sul paletto. Perché? No, vai all'uscita. Che parte? Questa me sta camperando. Non posso più muovere. Ritorna là. Ma questo con la trova. Vai, 3 a 3. Uh, la lisciata. Bella. Marta, il bastardo. Eh, che bello, mi muovo. Dai, è veloce. Ciao. Oh. Corri te. Corri via te. Che te frega. Sì, ma sto fescando però. E corri via. Ah, è morto. Ok. Chiri. Quanto sei brutto qua in giù. Noto che lancia l'assetto, guardala, guardala. Guardala, guardala. Ti ha beccato. Ti ha beccato. Quentin' esperto. Evviva, l'ho fatto così me lo tolgo dalle palle. No, non me lo tolgo dalle palle. Devo potenziarlo però. Almeno uno è andato. C'è qualcuno da invitare che facciamo... No, no. Facciamo una... No. Guarda, vado incazzato Skywalker. Perché? I hope you die of cancer, I really do. Ah, lui muore, lui muore. Pretty boy. Ma scusa, non è sopravvissuto, lui? Sì, ma penso per... Nel camping. Noi. Mi... 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 Ti devo rinvitare? No, 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 già. Sto entrambi. Sto entrambi. Ne faccio l'ultima, va. Così già disti... Sì, sì. Io ho capito. Ti prof che mi... Che dice? PLEBERINO! Con la faccia Vabbè con la faccia di uccidere Hai letto quello che ha scritto Rosso, red, wet Wet I'm seeing This is so gross I'm my pants in pink I'm my pants in pink Nvello 3 Pwpro.com Perché soldier con la R? We did a pretty good job So far So far So far Giusto no? We did a pretty good job E mori Perché altrimenti quella faccia di Salvini Aspetta Della pubblica Lo su Discord Vai Ma c'è al mori eh Eh vabbè Eh vabbè Guarda 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 Salvini Guarda Fiero Deve mettere quella La trigger Bellissima Prima o poi La metterò La metterò Ah perché Scaccia mosche Hai capito? Lui scaccia Della bellanurse qua c'è sta Ma andrea Ma perché ce l'ho sempre io? Eh ma perché ce l'ho dopo un po' O fa me è arrivato in faccia Adesso devo correre il genere No Scusa qua non c'è Oh lo sapeva L'ha predictato L'ha predictato Predictato? Oppure non lo sapeva Non lo sapeva Ed è stupido Ma Eh certo ovviamente Beh E' una testa di cazzo No E' l'unico best mental E' Tu grande Grande Salvini Brutto strada di merda Voglio lavorare duro Per un'idale migliore No a sto cazzo Che ci casco Tu sei 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 riparazioni Parlando di diavolo e Salvini Eh che cazzo poco Ci casco domani Le baldrac Le baldrac Sono ai maiali sono L'ora di tope di foglio Rusha 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 Spero che quell'altro Stai rushando Non la lascia Sono ancora con te Come fai Ok Occhio a vocazione Ti ricordo Ah si Vuce Lascia Ma perchè quelle che hanno La tizia di Myers Non fanno mai niente Io ho un momento Lo sento Lo sento ma non lo vedo Beh l'ho tenuto Quindi Non ce l'ha più con me Non so cosa faccio Perchè mi ha pure laggato Cazzato nero Guardalo Incazzato Eh volevi Guarda che faccia Quanto lagga Eh certo No perchè giustamente Se non riesci a prendere uno Giustamente Chi è che devi Costruito un muro Diventa Trump ora Ma perchè quella entrata Nel basement Cosa fa Perchè entri nel basement Lurida troia Ritorna su Guarda Se potessi dirlo al kill Vai nel basement Mandrianino Eh certo No salvami Ma a me non c'è lui il borro Ma perchè Ma perchè mi dava Perchè me l'auristronde Lo sta distraendo Eh Buon cazzo che lo sta distraendo Io Madonna non mi fa bestemmiare Per favore Luri di merda Guarda che se ne è anche andata A fare un generatore Dio Volevi 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 Hai allontanati Allontanati No ti ha visto Mi sa che il cacciatore di cerchi E' stato fatto Mi c'è Mi c'è Mi sa che il cacciatore di cerchi Ma voi di bloccate Dove andamo Ah stiamo Ma che ce la fa Che ce la fa Ma non l'ho visto Il basement Si che l'ha visto Vai 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 Volevi bloccate Volevi bloccate Più che potete Vai 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 Madonna quanto però Cazzo C'è veramente E con chi ce l'ha Con te No No vabbè Oh ciao 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 Curiamoci 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 Dov'è C'è vocazione Secondo me Non mi stai curando Però te Con la logica Di dbd Non mi stai curando Eh vabbè Quella è una troia Quella lì che c'è dietro di te È una troia Perché mi ha farmato Eh si Non faceva niente Correva Tu 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 Sei una luria Da cagna Tu 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 Si si Sei una luria Da cagna Luria Adesso Ti codi Blocco no se che puoi uscire da qua da genna mi sa ok così no non me ne frega un cazzo non esce comunque guarda con che faccia guarda con la mia faccia alla chiave e ora come fai lui da troia no scarso uscire dalla finestra lui da caglia che fa anche rumore vabbè nemmeno fin l'ultimo di qua no eh sì sì dove va lei perchè non segue noi perchè non me ne frega un cazzo dico che fa lo ristrudo acqua vabbè vai hai capito hai capito hai capito devo portare qui no 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 e poi è perso ha perso corre la prende, ma la prende guarda mamma mia l'avevo schivato però li è andato in faccia capito ho fatto morire per sbaglio si sto cazzo guarda ci casca anche domani mangiano di me anche come che cura lenta mamma mia mamma mia non ho mai visto persone più stupidi che sta qua vai vai a curare vai a curarli non è che ha vocazione mi ha visto andare non c'è vocazione non ce l'ha mamma mia non ho mai visto cosa più stupido di quella persona aspetta 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 sono ora ma non c'è corretto ma che vuole me non vuole finiamo il genio si si ma perchè la porti qui si che canna no no tu non ti meriti la cura non ti meriti la cura ti meriti di morire te lo dice alla ruspa te lo dice il popolo italiano guardalo guardalo vabbè che neanche ci caga l'uomo non mi credo che la popolo 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 eccolo 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 incazzato 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 nooo nooo cazzato nero adesso la presa fai film il genio ma prima fai la stronzata poi provi a a oh cazzo ecco infatti c'è la c'è la c'è la c'è la oh no questo lui da caglia sta arrivando nooo bastardo hai visto anche me sì hai visto anche me io di puttana come ho si colore e col mandriano allontanati ma che allontanati tanto fa una strage questo guarda la dove le cose l'uncino sì c'è la qua di fianco appunto arriva arriva ho visto ho visto ma mi prendo però ma che ca oh ma sto qua rovinato la partita sta cazzo di loro istrude che due coglioni ho veramente ah pleberino ah pleberino sì tutta la gente che imita voci con quella quel quel nabbo di merda ma se la salva veloce dai 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 ma guarda 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 sti zuncini vecissimi vecissimi l'un all'altro ma cosa salvi prima lui salva me non andate via se ne vanno vaffanculo il gioco di merda guarda e sai qual è il fatto che sto gioco è anche bello carino con i bug vabbè è la community neanche vaffanculo mi hanno fatto fuggire ma se ce la fa non ce la farà dai questo col noto ha vinto dai forse due se ne vanno almeno non perde ma perché non viene qua quello ma se ne andato non si rendi conto l'ho rovinato la partita e se ne andato no lo vedo ma insultalo io non lo so guarda se si fa prendere facilmente non fa niente ci porta il killer vicino cos'è voleva anche salvarti perché non ci sei riuscito appunto io sono morto e mi sono lasciato per sbaglio guarda che ma guarda tu che poi io da morto ho fatto più punti di lui cioè vabbè ci vuole poco non fa più cazzo adesso puoi insultarlo quanto vuoi cioè sono i commenti liberi eh? sono i commenti liberi nel suo profilo ah l'ha già insultato? a me non mi fa aprire il code devi ritornare indietro e rifare eh non lo posso più fare ah ecco ora si ti danno anche del lago ti danno anche del lago non è che non ho mica capito che cazzo si scusa il killer per aver usato il noise a sto punto non lo usare che cazzo non ho capito il killer sono stupido io non mi fa mai io sono i commenti liberi guarda io ho capito è giù io ho capito è giù che cosa vuoi dire?